Ciao a tutti, sono Chiara Rota e oggi mi trovo a JP Store a Buccinasco e ho incontrato Max, Max è il proprietario di questo negozio e adesso ci spiega un attimino questo negozio, da cosa è nato, come è nato. Bene, innanzitutto ciao Chiara, benvenuta, è un piacere averti qua. Come è nato JP Store? Nasce nel 2010 per una passione legata a quelli che sono gli sport tipicamente americani, da ex giocatore di football americano, magari non si direbbe, però è nata questa attività commerciale. Quattro anni fa mi avvicino al CrossFit come sport a livello personale, mi entusiasma tantissimo, per cui è scattato subito la molla del perché non aggiungere all'interno della parte lavorativa anche quello che riguarda i prodotti legati al CrossFit ed eccoci qua a vendere prodotti, scarpe, magliette e quant'altro legati a questa attività sportiva. Che marchi hai all'interno del tuo negozio? Abbiamo iniziato ovviamente da Reebok, che tutti quanti penso sanno e sappiamo che è il brand iniziale per cui CrossFit ha iniziato la sua avventura, per passare poi a Nike e anche ad Under Armour, nonostante sia un attimino defilato, però dal punto di vista del batteriale tecnico è direi molto molto ben piazzato Supercap. Perfetto, spiegaci un attimo come funziona con l'affiliazione dei box, so che c'è una sorta di sconto, una sorta di... Sì, mi fa piacere che tu abbia saputo questa cosa, da quest'anno, anzi da pochi mesi abbiamo iniziato questo progetto, è un progetto che è rivolto essenzialmente a tutti i box italiani, o meglio stiamo cercando di veicolarlo il più possibile verso tutti i box italiani. Essenzialmente è una grossa agevolazione per i box owner dal punto di vista di offrire ai propri associati, affiliati o atleti che siano, dei grossi vantaggi dal punto di vista commerciale. Faccio un esempio esemplificativo per tutto, esce una mano 9 tra pochi mesi, 2 o meno, verso luglio, o uscirà una nuova Metcon, il giorno dopo un associato a un box che ha aderito alla filiazione può comprare il prodotto col 25% di risultato. Questo vale per tutti i prodotti della linea CrossFit e vale per 365 giorni d'anno. Quindi direi che c'è un grandissimo vantaggio far parte di questa affiliazione. Direi proprio di sì. E come funziona? Funziona essenzialmente che i proprietari del box ricevono un contratto da parte nostra da firmare. Stiamo veicolando questa cosa insieme a Box Hub. Praticamente noi forniamo una parte di materiale di marketing da installare all'interno del box, per cui dei cartelloni del visual che possano essere utilizzati per informare tutti gli iscritti al box di questa convenzione. L'iscritto potrà attraverso dei buoni sconto virtuali che noi diamo ovviamente ai box fare direttamente l'acquisto sul nostro sito col 25% di sconto. Per i box più vicini possono recarsi direttamente in negozio con un buono sconto fisico cartaggio e fare la stessa operazione direttamente con l'acquisto in negozio. La cosa importante, riteniamo che sia questa novità, sarà a partire appunto dalla fine di novembre per comprare direttamente sul sito con il 25% di sconto, con la spedizione a casa. E questo è molto importante. Quindi la spedizione a casa o al box, quindi anche questo è molto comodo e in più tanti box possono, quelli più vicini possono venire a vedere, toccare con mano i prodotti, provare le scarpe e invece i box più lontani possono ordinare online. Assolutamente. Nel caso ci dovessero essere problemi con le varie misure? Nessun problema, come qualsiasi vendita online c'è il diritto di recesso per cui reso e eventuale sostituzione con il numero in più, numero in meno, un colore diverso, qualsiasi cosa sia, ecco, per cui nessun problema da quel punto di vista. Come possono fare i box owner per contattarti? Benissimo, i box owner possono contattare direttamente le box hub che è, diciamo, il nostro partner in questa operazione di affiliazione, direttamente scrivendo alla loro mail che vedete qua sotto. Ok, perfetto. Quindi gestiranno loro tutta la parte di contatto direttamente con me e poi da me riceveranno i contratti e tutto il materiale necessario per gestire l'accordo e l'affiliazione. Ok, grazie mille Max, allora ti saluto e vi aspettiamo nello store, JP Store o sul sito online. Grazie mille a te, è stato un piacere grandissimo averti qua e ovviamente oltre allo store ricordatevi anche l'online che sarà sicuramente il futuro www.jpstars.it. Grazie a tutti.